Oddio! No, no, Fra! Ma va in giro! Il cazzo di Paradella! No, Fra, quello lì va nel Best of Film! Non si vede, Fra! Ma che cazzo? Se vuoi editare già 720, bastano 200 euro, fidati! Fra 1080... Eh, 1080... Un bel piccione! Un bel piccione! Raga, clippatela, vi prego! Oh! Oh. Grazie.